squadra che vince non si cambia come dicono gli allenatori quelli bravi qui a metalitalia cerchiamo di essere altrettanto bravi e dopo il gradimento riscontrato dalla prima puntata di fine maggio ritorniamo sul luogo del delitto questa è metalitalia podcast un saluto a tutta la community da jc e come avrete capito oggi torniamo a parlare di epic metal e in particolare di manila road insieme a me ci sono joe dei dunsworth bella joe ciao e anche enrico paoli dei domine ciao enrico ciao a tutti ci sorveglia dall'alto il grande capo alessandro corno ciao ale ciao ragazzi signori c'è una grossa responsabilità oggi in quanto l'episodio precedente dedicato ai warlord è stato ascoltato da 3000 persone quindi comportatevi bene e forniamo contenuti di alta qualità mi raccomando non possiamo fare altrimenti grazie grazie che hai parlato perché sembrava un solilo siamo predisposti noi esatto come dicevo prima qui ci sono dei metallari di alta categoria esatto io partirei da quello che ci stavamo dicendo prima sui metallari di alta categoria di benigni ma magari lo faremo dopo oddio mio vi chiedo subito cari joe ed enrico un una domanda stupidissima ma fondamentale che cosa rappresentano e hanno rappresentato per voi nella vostra formazione da musicisti i manila road ma vado io joe vai te vado io guarda i manila road è una di quelle band che anche riallacciandosi un pochino al discorso di warlord che avevamo fatto l'altra volta che sono appartenute a questa scena più underground quindi delle vere e proprie cult band che hanno fatto degli album con queste atmosfere e questi queste sonorità che facevano una scena proprio a sé quindi quella che poi viene definita epic metal quindi muovendosi un pochino da quello che è il heavy metal più classico per andare a trovare invece queste atmosfere epiche comunque legate ai miti sia storici e dell'eroic fantasy quindi è stato una un'influenza diciamo naturale dovuta legata molto a quelli che sono i i miei gusti personali ad un certo tipo di di atmosfere e un certo tipo di di musea quindi è chiaro che è stata una una cosiddetta cult band quindi non è stata una una band enorme che che ascoltavano tutti anzi io devo confessare che i manila road io comprai open the gates quando è uscito e poi i primi tre album li ho trovati in uno di questi scatoloni in offerta nei negozi in un negozio in via faenza a firenze non esiste più in cui c'era l'offerta 3 lp al a 10 mila lire e presi i primi tre album e quindi è stata un po' anche una non erano una band che era che aveva una grossa promozione o una molto popolari ecco erano una band e dovevi andare a stanare quando però come succede un po' per tutte le cult band quando poi dopo ti ci agganci non li molti più e poi anche sempre riallacciandosi al discorso anche di di william sammiss e dei suoi warlord è stata una band dalla cui musica traspariva questa passione per per la musica non erano una band che poi aveva aveva avuto delle grosse chance per diventare internazionalmente conosciuti sono rimasti questa band onesta che che ha sempre fatto album e tutti gli album di manila road sono autoprodotti quindi che ha messo la la loro la la loro passione nella loro musica e poi dopo quando conosci un personaggio come Mark Shelton non puoi che che appunto mostrare rispetto per una persona che ha dedicato la sua vita alla sua musica e l'ha fatto in un modo eh veramente passionale e veramente amichevoli poi per nei confronti dei dei suoi fan passo la palla a giochi sicuramente anche da un punto di vista personale ha tanto da dire avanti in maniera road grazie Enrico è un bel punto di vista tra l'altro perché io essendo un po più giovane di te non ho potuto comprare open the gates quando è uscito e poi l'avrei potuto però mi avrebbero guardato strano comunque diciamo per me il valore principale dei maniera road è difficilmente individuabile sembra quasi una specie di cosa globale cosa intendo a livello musicale sono eccezionali potrei cominciare a parlare del livello musicale della loro evoluzione da come siano partiti da un ambito diciamo quasi space rock poi abbiamo trovato quest'identità molto epica a sprazzi nei primi due dischi fino a concentrarsi su un determinato sound a crystal logic e poi il cambio di formazione perché rendi fox alla batteria a come diciamo avesse cambiato l'interruttore nella velocità della band e da lì si sono poi avventurati in territori più trash o anche progressivi quindi hanno coperto questo spettro enorme pur rimanendo sempre fedeli a se stessi pur rimanendo sempre epici è con una qualità esagerata è unica tra l'altro poi comunque il sound unico del io per esempio se mi ci metto a riprodurre i soli di Mark Shelton non ce la faccio lui ha un modo in particolare di suonare mette le mani sulla sulla tastiera della chitarra non è una cosa ovvia da riprodurre gli accordi strani sì ci trovi un po di rush qua e là però soprattutto soprattutto i primi rush insomma ecco però moderatamente generalmente parlando era parlando del suo sacco però poi c'è la questione dell'immagine Manila Rod era molto molto particolare si sono concentrati su determinati temi che non erano poi così popolari e poi per me il fatto che Mark Shelton avesse i testi più sensazionali del metal non solo perché erano di una qualità elevatissima a livello diciamo di poetica quindi di scelta delle parole ma anche perché quello che dico sempre io è ogni volta che che ascolto una canzone di Manila Rod anche se è su un tema diciamo particolare che non so mitologia storia c'è sempre almeno una frase che è di valore morale che è un insegnamento di vita e non è uno scherzo poi puoi andare a ricercare tutti i testi in particolare però penso Enrico menzionava Open the Gates Open the Gates per me è come un Tao un libro di lezioni filosofiche ogni canzone contiene messaggi incredibili di come vivere la tua vita per esempio se uno si sente un po' giù specialmente per qualcosa a che fare con le persone con cui interagisci ogni giorno se tu leggi il testo di Roderick Kings in poche parole ti dice scordati tutte le ansietà non lasciare i bastardi con cui hai a che fare ogni giorno non farti tirare giù perché tanto non vinci mai nel senso che ci saranno sempre quindi l'unica cosa che puoi fare è mantenere il tuo sentiero virtuoso che poi è Roderick Kings il modo in cui lui Mark Shelton riesce a inserire lezioni di vita nel contesto di una canzone per esempio come Roderick Kings che è il contesto di Open the Gates che era più o meno centrato su Rare 2 non è una cosa facilissima da fare anzi io ci ho tentato però non sono Mark Shelton non è altrettanto soddisfacente però questo diciamo diciamo che sono dei testi che non sono proprio I'm on my way I'm on the road again no qua c'è un leggero riferimento a qualcosa che magari affrontiamo dopo diciamo così no no ma col massimo rispetto a parte che lui si è anche lasciato a cose più leggere però episodi sporadici e con diciamo puramente intenzionali però per quanto riguarda il classico pezzo di Manila Road musica eccellente mai ovvia con testi sia evocativi che filosofici che morale ragazzi posso chiedervi quanto avete avuto occasione di avere a che fare con Marco o comunque con con la band di generale ma io ci ho lavorato perché con Dragonheart ho avuto in catalogo la ristampa di Open the Gates per per dieci anni per cui sì ci ho lavorato diverse volte e poi vabbè l'ho incontrato di persona qualche volta quando è venuta a suonare in Italia è una persona era proprio il classico amicone ecco la persona proprio aperta disponibile ma 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 non soltanto con gli addetti ai lavori anche proprio con i fan quindi una persona che che suona perché gli piace suonare perché aveva delle cose da dire e che perché la sua musica è stata la sua vita ecco poi vabbè ora non 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 vorrei entrare troppo perché dentro la questione della ristampa di Open the Gates ci sarebbero degli aneddoti anche abbastanza divertenti perché quando vai a toccare i dischi vecchi che sono stati stampati da da altre etichette insomma ci furono un po' di problemi con la Black Dragon che mi lantava delle dei diritti sull'album anche se poi in realtà invece tutti gli album come ho detto anche prima tutti gli album dei Vanilla Road sono autoprodotti quindi erano tutti di proprietà di Mark che li gestiva in un modo anche abbastanza tranquillo perché comunque lui aveva soltanto l'intenzione di di poter diffondere la sua musica e farla ascoltare a più persone possibile e quindi era comunque questo personaggio veramente amichevole per certi punti di vista anche un pochino un fricchettone cioè un ma detto nel senso buono cioè la persona che viene dagli anni 60 dagli anni 70 quindi con quella visione della musica anche abbastanza libera abbastanza divertente poi dopo naturalmente come ha detto anche Joe aveva invece un approccio sulla musica e sui testi che era anche ricercato insomma ecco quindi non è che buttava giù i primi due accordi o i primi due testi stile rock and roll come a volte succede per tante altre band però ecco era comunque questo questo personaggio veramente passionale nella sua musica e veramente senza senza proprio senza fronzoli ecco senza nessun tipo di attitudine ecco questo è una cosa veramente importante da dire Joe tu cosa ci puoi dire faccio la palla la prima cosa che direi è che l'autorità massima in campo Mark Shelton giusto per tirarlo in causa una seconda volta 2x2 è Gianluca Siv però perché comunque secondo me questo va detto cioè al di là degli scherzi Gianluca ha giocato un ruolo importantissimo per il ritorno di Manila Roth è vero che erano già avevano già suonato a Bach e ne via dicendo però Gianluca li portò in Italia nel 2002 anche per i Doomsword è stato un evento importantissimo avevo una specie di marker nella carriera della band perché fino ad allora noi non avevamo nessuna intenzione di suonare dal vivo noi io non avevo nessuna intenzione di suonare dal vivo poi Gianluca trovò il mio numero non so come mi chiamò a casa disse guarda che porti Manila Roth voglio i Doomsword io non come facevo a dire di no e quindi quando andai a suonare ad Ascoli nell'ottobre 2002 19 anni fa eh sì parecchio tempo eh quello fu il momento in cui incontrai Mark Shelton fin da subito eh fin da la prima la prima parola mi ricordo che io arrivai dentro al al brunch che è il locale dove suonano eh c'era Manila Roth lì che guardavano in giro e vediamo un po' come era il locale e Mark Shelton all'epoca un po' un po' sul sul sovrappeso con i capelli corti mi disse Deathmaster what an honor che onore a me eh 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 e io infatti gli risposi ma questo è scemo eh in una maniera gentile eh poi però scopri che lui aveva il il primo album dei Dunsord gli piaceva di brutto perché cioè eh capì immediatamente che tipo di persona Mark Shelton era che lui non gli riferava a niente che al momento in cui Dunsord avessero pubblicato un album lui ne aveva già pubblicati 20 milioni eh per lui era una questione di rispetto verso un altro artista eh eh e in effetti questo è questo tema diciamo della dell'umiltà del dell'essere puro no Mark Shelton era proprio puro eh per lui era musica musica heavy metal esatto fine eh non c'era nient'altro mi interessasse sì è vero che eh gli aspetti pratici del della vita musicista vanno gestiti non perché siccome sei un musicista allora lasci che la gente ti freghi i soldi ok eh però per lui comunque era una questione di di musica e di rispetto personale fine della questione da lì in poi io e Mark comunque sia con Nuneso ma anche occasioni diciamo eh semplicemente perché magari andavo a un festival dove suonavano ok ci siamo incontrati tante volte abbiamo speso un sacco di tempo a parlare Mark era un antropologo eh per lui la la natura umana era proprio la cosa più importante per questo che lui era così fissato su mitologia per lui la mitologia non era una collezione interessante di storie lui ci vedeva la natura dei popoli che creavano che creavano questi miti eh eh aveva una comprensione della natura umana superiore a maggior parte delle persone che che io conosco naturalmente incluso me eh in effetti ci ci non lo so abbiamo fatto delle chiacchierate interminabili tutta la notte in poche parole questa lì con Mark Shelton l'unica cosa di cui aveva bisogno era un po' di bir poi siccome Enrico menzionava lui si era diciamo di estrazione frecchettona quindi magari eh andava a fumarsi il suo cannone però al di là della pausa cannone era un una chiacchierata con spensierata con birra e vi mettono sottofondo quindi eh dei momenti indimenticabili perché alla fine si si discuteva tra amici di temi su cui si erano appassionati eh eh fine della questione eh ma lo sai Gio mi ha fatto venire in mente una cosa a proposito dell'approccio con certi musicisti no io quando ho fatto il il brano dei domine con i temi di Vasil Poledouris mandai la cassetta per avere l'ok di poter pubblicare questo brano con i con i suoi temi e lui mi risposte mi rispose su una mail maestro Enrico bravo e io va bene maestro Enrico bravo però cioè che è una cosa dalla fantascienza no? cioè che dici cazzo questo è un compositore che ha fatto delle composizioni degli arrangiamenti orchestrali che fanno spavento che sono di un'influenza per tantissimi tipi di musicisti eppure come hai detto te c'è questo rispetto perché evidentemente basta anche sentire un brano realizzato da una band sconosciuta heavy metal italiana che non hai di cui non hai mai sentito dire niente però se ti piace hai questo approccio e questo è è veramente l'attitudine dei grandi secondo me cioè di quelli che non hanno nessun problema a dare un riconoscimento a qualcuno che fa un qualcosa in questo caso nella musica ma potrebbero essere in tante altre forme di arte che comunque anche a te che sei di gran lunga superiore di un livello stratosferico nei suoi confronti però se ci senti qualcosa che ti piace lo riconoscano non hanno nessun tipo di di remora a o a guardarti dall'alto in basso eppure potrebbero ma alla stragrande e anche scelto non era in questo modo era uno che quando te ti avvicinavi ciao sono Enrico ti abbracciava subito non era ma lo faceva con me non perché ero il discografico ma lo faceva anche con il fan con qualsiasi persona quindi da questo punto di vista tornando anche alla domanda principale dell'influenza è anche proprio una grossa lezione di attitudine nei confronti della musica un modello perché perché noi parliamoci chiaro qui non siamo qui purtroppo a vendere milioni di dischi o a fare i tour mondiali però va bene così noi siamo degli appassionati di musica e da queste persone che te vedi come dei grandi musicisti dei grandi artisti prendi la lezione di vita che anche loro nonostante abbiano fatto 20 album che te hai ascoltato quando eri ragazzino e da cui hai preso delle lezioni poi quando li incontri e ti trattano da pari perché non è la questione è solo e solamente musicale e questo secondo me è veramente uno dei fattori principali della personalità di Shelton non a caso quando purtroppo se ne è andato tutta la scena metal è rimasta bravo esatto volevo arrivare lì volevo arrivare lì perché i tributi sono fioccati da tutte le parti perché evidentemente questa persona ha lasciato tanto ha lasciato tanto e questo va riconosciuto perché poi purtroppo purtroppo diciamo è così diciamo che tante del pubblico metal conosce soprattutto le grosse band e credo che sia anche naturale perché non tutti sono degli appassionati che vanno a scavare anche a trovare le band più underground però ecco Manilla Road parliamoci chiaro hanno fatto tanti dischi possano piacere o non piacere però secondo me dal primo fino a Mystification sono dei dischi paurosi tutti poi ognuno ha i suoi preferiti ed è giusto così però ecco va riconosciuto e questo è stato un bene che da diciamo da da un certo punto in poi la band possa essere venuta in Europa a fare tanti festival e avere il giusto riconoscimento perché avevano effettivamente seminato della musica veramente di valore ecco e quindi se siamo qui tutt'ora a parlarne c'è una ragione certo una domanda Enrico Gio a proposito di musica di valore prima microfoni spenti avete detto qualcosa che secondo me può interessare molto ai fan dei Doseworld ce lo dite a microfoni aperti Allora non parlo io parlo e niente siamo lavorando alle ristampe in vinile dei dischi dei Doseworld quelli che sono stati pubblicati su Dragonheart perché due i primi due album che abbiamo pubblicato su Dragonheart sono usciti ai tempi in edizione limitata però ci sono due album soprattutto che non sono usciti soltanto in CD e quindi è il momento visto che comunque per fortuna c'è questa c'è stato questo rinnovato interesse negli ultimi anni anche nel formato e partiremo con My Name Will Yvon che sarà pubblicato in doppio doppio vinile perché l'album è abbastanza lungo in copertina Gayfold insomma sarà accurato probabilmente ora sto mettendo appunto gli ultimi dettagli sarà una tiratura di cui una parte in vinile colorato e in parte in vinile standard questo perché ci sono sia i collezionisti che vogliano magari il vinile colorato e quelli invece che sono un pochino più puristi del sound che vogliano il vinile standard questo insomma sono delle idee dei massimi collezionisti di vinile e poi insomma andremo avanti con la ristampa anche degli altri album non vi so ancora dare dei dati precisi delle date di uscita perché purtroppo sia per il problema del covid sia per comunque l'intasamento generale delle produzioni dei vinili le tempistiche si sono allungate tantissimo addirittura c'è stato quel problema quando ci fu quel problema con la nave ferma nello stretto di Suez che lì arrivavano tutte le lacche dal Giappone insomma c'è stato anche un grossissimo ritardo un po' per tutte le stampe che sono rimaste in Europa però ecco vediamo questa anteprima su uno dei prossimi lavori targati d'Unsord che riusciranno anche perché poi tra l'altro questa è una considerazione personale My Name Will Live On è forse l'album un po' più vario dei d'Unsord che secondo me vale proprio la pena di riascoltare Joe sei d'accordo? Eh sicuramente pensa che innanzitutto sono d'accordo sul giudizio che ha dato Enrico di Manimo e Livoni tuttora penso che secondo me Death of Herdia è probabilmente il pezzo più completo non voglio dire migliore perché un pezzo può essere ignorante e grezzo essere il miglior pezzo di Evil Metal mai scritto però quanto diciamo qualità generale che inoltre mantiene diciamo a un certo livello di varietà complessità sì decisamente poi come ha detto Enrico è lunghino sui parametri di Unzord perché alla fine noi fino alle battle commens ci eravamo fissati di fare sette canzoni il primo ne ha otto ma una è una cover quindi erano sette canzoni originali mentre My Name Will One ne ha nove non lo sapevo che si faceva due colori di vinire quindi mi fa piacere vedi sono le anteprime anche per te no ma è vero Enrico mi ha detto a microfoni spenti stavo dicendo che ha ricevuto il test press molto bene si ben diretto poi insomma in My Name Will Live On c'è Stilo My Axe è una bastonata assolutamente assolutamente ma Enrico c'è un problema perché comunque una buona parte della nostra community reclama un disco nuovo anche di una band che conosci bene che si chiama Dominic oh mio Dio mi aspettavo vabbè vabbè diciamo che è un oddio non so quale risposta darvi ne ho detto talmente scegli scegli hai una scelta ti ricordi cosa dicevamo di Benigni ve l'ho promesso ma non vi ho detto quando fantastica ecco ok è questa è questa qui ve l'ho promessa però non vi ho detto quando sì questa è la risposta del momento dai la risposta del momento comunque vi posso dire che lunedì scorso siamo stati in sala prove questo sì ve lo posso dire ok ce la facciamo andare bene per questa volta Alessandro verifico se tu sia sveglio in questo momento perché siamo andati più o meno ragazzi più o meno con noi più o meno sì allora devo dire una cosa io non sono un conoscitore di pari livello loro per quanto riguarda i Manilla Road quindi non mi sono permesso di intervenire per me sono uno di quei gruppi veramente storici e per cui ho massimo rispetto ho parecchi loro dischi non li conosco tutti a mena dito ho qualche buco qua e là nella discografia che ammetto di avere però c'è i grandi classici sono secondo me imprescindibili i primi album ma io devo dire la verità io ho sempre apprezzato molto anche le più recenti produzioni quelle un attimino più ragionate che hanno fatto un pochino più atmosferiche cioè io ascolto spesso molto volentieri gli ultimi tre barra quattro album secondo me sono molto validi sono diversi ovviamente dai loro classici però come per altri gruppi storici diciamo rispecchiano un po' il periodo l'età e la le atmosfere che si vivono anche in un'età in un'età diversa rispetto alla gioventù quando spacchi tutto dopo una certa età magari un musicista ha più piacere a concentrarsi su certi altri tipi di atmosfere anche in relazione anche alla sua prestanza vocale e fisica appunto quindi per me è un gruppo per cui ho massimo rispetto e mi pento di non aver mai organizzato un concerto loro ecco sono arrivato troppo tardi probabilmente perché ho cominciato ad organizzare concerti quando questi avevano già 30 anni di carriera quindi me lo sono sempre detto prossimo tour magari non l'ho fatto in tempo perché purtroppo Mark è morto prematuramente quindi rimarrà sempre Ascolta Miale scusami tornando a una cosa che hai detto poco fa evoluzione si cambia atmosfere ultimamente io e te ci stiamo scannando in privato perché pubblicamente non interessa nessuno su e mi piace che evolge in questo argomento anche i nostri graditissimi ospiti a cui magari non fregherà nulla di ciò che sto per dire ma lo faccio lo stesso dato che conduco io e dicevo che ci stiamo scannando sull'ultimo disco degli Iron Maiden io adoro gli Iron ma l'ultimo disco proprio non mi è piaciuto Alessandro ha una visione che in qualche modo si collega ad alcuni temi che abbiamo affrontato soprattutto a livello di atmosfera Ale ce la spieghi? Sì secondo me Senjutsu è un album che un po' come per le ultime produzioni che avevano fatti Manila Road non tutti i dischi interi ma riguardo certi pezzi Senjutsu appunto rispecchia più o meno quell'idea che a una certa età quindi nel caso degli Iron Maiden sono 60 anni suonati un musicista magari non ha più voglia di scrivere l'ennesima copia venuta male di The Trooper o l'ennesima copia venuta male di The Trooper di The Trooper di The Trooper Ma appunto compone in base a quel cavolo che c'è voglia di fare al momento perché questo è un disco più lento più cadenzato più atmosferico con testi epici eccetera eccetera cioè io lo vedo come un disco epic metal il nuovo disco degli Iron Maiden per me quella non è nuovo British heavy metal lo è solo in parte cioè non è nuovo British heavy metal per come noi la intendiamo se si parla di Judas Priest Saxon e Iron Maiden appunto dei tempi degli anni 80 e cose del genere qui siamo più in un territorio differente secondo me più vicino all'epic metal quanto meno come approccio che si deve avere nell'ascolto per apprezzare un disco del genere d'altronde chiudere un album con tre pezzi della durata media di 11 minuti che ok sono d'accordo anch'io a dire che siano forse un po' troppo anacquati troppo allungati quello sicuramente qualche sforbiciata qua e là un produttore avrebbe dovuto dargliela ma quando hai come coproduttore Steve Harris non ti puoi permettere di toccare niente altrimenti ti taglia lui le mani a te e quindi devi accettare la cosa per quella che è diciamo che il bello dell'album secondo me sono proprio le atmosfere evocative che ha che lo differenzia ad esempio da un Brave New World per dire Brave New World era molto più classico come disco era molto più classico stile loro questo invece secondo me è un disco molto valido che appunto va ascoltato con un approccio differente e anche a tratti devo dire non dico che è rilassante però è un disco molto più tranquillo ecco rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare e quindi secondo me cosa ne pensate sul disco sulla band su quello che vi pare ma qui rischiamo di essere decapitati da Eddie davvero con la spada da samurai ma siamo a 35 minuti quindi oramai parente all'advisore possiamo mettere il discorso Iron Maiden per quanto mi riguarda è molto particolare perché io ho rispetto per questa band incredibile perché è una delle band che ha letteralmente inventato il genere però naturalmente un'altra volta faccio sempre la figura del vecchio di merda che a noi piace un po' alla fine ho comprato il primo album quando usci senza nemmeno sapere com'era lo comprai per la copertina e lì insomma sono diventato un fan è stata un'influenza bestiale dal punto di vista musicale anche perché i Domini la primissima formazione era con due chitarristi quindi eravamo molto più maideniani all'inizio e questo è andato avanti per un po' con tutti i primi dischi incredibili però io dico qui e qui rischio veramente la castrazione non chimica ma proprio fisica quando arrivai a Seven Son o a Seven Son proprio mi ruppi le scatole cioè è un album che non comprai ecco quando usci cosa che poi dopo negli anni invece ho ripreso e valutato però quindi e questo credo che sia un po' una caratteristica di queste band enormi che comunque hanno una discografia immensa e che nel corso degli anni poi cambiano perché comunque ecco se li paragoniamo ad una band come i Manilla Road c'è proprio l'evoluzione è diversa è proprio diversa quegli altri i Manilla Road rimangano comunque una cult band quindi una cosa che te in qualche modo ti rimane appicciata addosso ti rimane la voglia di scoprire ogni volta che fanno gli album gli Iron Maiden è una band talmente enorme che fa dei rischi che hanno un pubblico talmente vasto che va addirittura al di fuori di quello che è il pubblico heavy metal perché tantissimi dei ragazzi che ascoltano gli Iron Maiden non hanno un'idea di cosa possa essere un disco dei Manilla Road o dei Series Angle ma e questo non lo dico come con la spocchia è come se volessi creare l'elite e gli altri sono fuori è proprio diverso come musica quindi se arriva io non so nemmeno ora quanti ne hanno fatti le Iron Maiden quanti sono una ventina 17 17 album è chiaro che adesso sono una cosa diversa rispetto a quello che era un tempo ma è normale per forza deve essere così per quanto mi riguarda lo dico non lo so l'ultimo album io l'ho ascoltato a forza dico la verità l'ho ascoltato a forza sì mi piacciono abbastanza i brani lunghi ecco con i brani lunghi ci trovo comunque sempre delle idee di Steve Harris questi arpeggi che fa lui questi cambi di tempo però ecco non lo so è colpa mia ecco sì è colpa mia io mi rendo conto di essere un fan della di vecchia data e queste cose nuove non mi entusiasmano ecco non posso nemmeno dire che sia un album brutto è assolutamente anzi e tra l'altro sono contento che comunque ci siano delle band diciamo anzianotte che continuano comunque a fare dischi nuovi certo questo è importante e poi è positivo invece di fare soltanto i greatest hits o le stampe dei vecchi album per cui mi va bene da questo punto di vista qua non sono molto d'accordo con Ale nel considerarlo epic metal sì delle atmosfere ci sono delle atmosfere ci sono però non lo so hanno sempre io negli Iron Maiden da un certo punto in poi ci sento questa vena più rock più diciamo come dire meno metal quello quello duro ecco lo sento molto molto melodico molto suonato molto bene e poi e questo sì veramente rischio rischio la gigliottina però l'unica cosa che posso dire quello che veramente non mi piace è che magari ecco una band della loro stazza della loro qualità potrebbero far di più da un punto di vista della produzione questo lo dico come fan e non lo dico come musicista perché come musicista devo stare zitto muto e perché arrivare a avere una carriera a quella maniera è veramente impensabile impensabile però la produzione sì va bene c'è questa la personalità qui è Steve Harris e te se non gli dai un Martin Birch fa quello che vuole ma è anche giusto Erico ti fermo qua perché su questo si aggancia e conclude Joe sul discorso un po' meno metal perché prima ha detto una cosa bellissima io sono super fan degli Iron Maiden ma mi è piaciuta molto questa definizione che ha dato un po' degli Iron in generale Joe sì prima di tutto però vorrei siccome ognuno ha detto di quello diciamo dalla discografia di Manila Roth che apprezzano sì lo vorrei dire anch'io che è tutta però in particolar modo al di là dei primi dischi al di là di Open the Gates diciamo un pinacolo a livello artistico poetico a me uno degli album che mi sta più a cuore è Atlantis Rising che è Il Ritorno secondo me è un album che va ascoltato quindi giusto la metto lì se magari l'avete sottovalutato leggetevi la storia è interessantissima e dà un'idea precisa di di quello che Mark Shelton studiava ogni giorno per creare i suoi testi per quanto riguarda la cosa Iron Maiden allora a me gli Iron Maiden non piacciono non mi sono mai piaciuti sì ci sono un po' di canzoni che ascolto volentieri non è che torno non è che ti spengono lo stereo se arrivano gli Iron Maiden però non li vado a cercare neanche diciamo che c'è una ragione precisa il fatto è che quando ho iniziato ad ascoltare musica perlopiù ho ereditato musica che ascoltava mia mamma quindi Black Sabbath Led Zeppelin Deep Purple poi Rainbow e a me da subito mi sono innamorato di questo diciamo Hard Rock o Heavy Metal diciamo Proto Metal o Heavy Metal dei primi giorni però volevo più potenza più velocità più aggressività e quindi poi ho scoperto l'Heavy Metal diciamo degli anni Ottanta sono rimasto soddisfattissimo gli Iron Metal in questo senso mi cascano in quanto all'aggressività in quanto approccio propriamente Metal quindi per far capire un po' cosa intendevo ho detto se devi descrivere a un alieno come suona Heavy Metal e devi scegliere solo una canzone solo un pezzo io scelgo Pain Killer perché in un minuto di musica senti un drumming potentissimo un acuto di Rob Alford classico Heavy Metal che ti stende un riflazione che entra dentro e ti taglia in due a metà canzone sei già disintegrato dagli assoli per me Heavy Metal è puro è quello cioè venire spazzato via dall'energia dalle capacità tecniche della band e gli Iron Maiden hanno questa cosa che è tipica questo sound che è tipico loro però non è a caso che sia così perché chi scrive le musiche è il bassista e il bassista non ha non scrive musica nella stessa maniera in cui a meno che non è anche un chitarrista però secondo me mi dà l'idea che scrive le musiche sul bass poi posso sbagliare comunque è così e quindi in poche parole non sono mai riuscito ad entrare proprio nell'energia giusta per ascoltare gli Iron Maiden chiaro Joe è un punto di vista rispettabile e anche espresso in maniera molto chiara a tal proposito do diritto di replica ad Ale visto che abbiamo anche parlato di Steve Harris il principale compositore allora sì prima si è fatto un discorso su diciamo su come era Mark Shelton come persona e beh tutti lo sappiamo che tipo di personaggio era una persona di umiltà incredibile e hanno già detto molto loro due su come era appunto lui io vorrei dire una cosa invece su come è Steve Harris perché in certe cose ho riconosciuto un atteggiamento simile io lavorando sia in vertigo che a live di Trezzo ho avuto modo di diciamo di conoscerlo quando è venuto lì a suonare a live di Trezzo con i British Lions ebbene vi dico che è una persona di una tranquillità e di un'umiltà bestiale vi dico solo una cosa era il momento di mangiare le richieste ovviamente le faceva la band e noi lì pronti a servire qualsiasi cosa perché chiaramente è Steve Harris quindi non è che ti devi aspettare un po' di tutto quindi avevamo delle aspettative di un certo tipo la richiesta fu pasta al forno ok e già dici vabbè ok allora ok gli si recupera la pasta al forno e tutto quanto e lui si presenta con un ritardo dovuto ad una telefonata internazionale che stava facendo e quindi tutti mangiano men che lui e rimane la sua roba lì da mangiare ebbene ricordo questo personaggio che di un'importanza storica infinita che finisce la sua pasta al forno prende i piatti e sparecchia e ci ringrazia perché la pasta al forno era buonissima e di questi gesti ne ha fatti durante la giornata che è stato lì a girare dentro nel locale con noi a sistemare cosa a guardare cose tutto il giorno a telefonare ha fatto una serie di questi gesti infinita cioè io sono rimasto colpito tante altre band microscopiche a confronto se non per dire inesistenti non avrebbero mai fatto una cosa del genere questo veramente arriva col piatto davanti al bancone lo consegna e dice grazie era buono era buonissimo ok cioè questo tanto per dire il personaggio hai fatto bene mi hai dato anche mi hai dato anche lo spunto per fare un podcast dove racconteremo tutti gli aneddoti che abbiamo visto in questi anni io pensavo raccontassi della firma del pandino ma quella è successa è successa poco dopo ha mangiato e dopo o mi ricordo se poco prima o poco dopo comunque nel pomeriggio lui sono arrivati fuori dei fan fuori dal locale lui è uscito e si è messo ad autografare qualsiasi cosa compreso il panda di una persona è anche è anche proprio la struttura diversa di essere con i British Lion con Iron Maiden dove invece sono di solito blindati anche anche se loro non vogliono noi io invece ho avuto un'altra ve la dico io un'altra un'altra aneddoto su Harris noi abbiamo suonato con un festival con Iron Maiden con gli Iron Maiden Headliner noi in apertura ci mancherebbe però in un Iron Jamming Festival 2007 so già cosa stai per dire vai vai praticamente lui venne nell'area backstage noi eravamo genuflessi verso la Mecca e lo andai a disturbare io e gli dissi guarda siamo una delle band di supporto che apriamo lo show vieni a fare una una foto con noi per favore io avevo una maglietta di Aqualong del Geprotal e mi disse con quodesta maglietta non posso dirti di no e allora si alzò e venne a fare la foto io ti giuro che volevo dire questo aneddoto perché fu l'anica in cui il giorno dopo venne giù tutto l'unico giorno che si salvò fu il nostro alla fine perché suonavamo tutti e fu un concerto memorabile signori abbiamo strasforato io vi ringrazio tantissimo starei ore ma è anche ora di andare a mangiare credo e quindi adesso ci andiamo grazie Joe grazie mille come sempre niente figurati mi hai fatto venire fame con la pasta hai visto grazie Enrico in collegamento da Hong Kong poi abbiamo risolto ma grazie a voi grazie a voi abbiamo risolto col Marshall ringrazio anche Alessandro grazie grazie a tutti ragazzi e carichiamo la prossima puntata che ad occhio e croce un Siri Tangle più o meno che mi dite anticipiamo anticipiamo stiamo spoilerando a manetta tanto più sono cazzi miei quelli di scrivere la puntata va bene così un abbraccio a tutti ragazzi alla prossima puntata del podcast e come sempre Epic Metal a PORS in questo caso